Sheriff Inter 1 a 3, bene così, due parole però su Lautaro e Zeco, insomma cerchiamo di aggiustare i piedi e la testa perché non ci siamo, davanti abbiamo avuto lo Sheriff, insomma è vero che è una squadra che ha battuto il Real Madrid, ha battuto lo Shakhtar, però voglio dire sono le classiche squadre meteora che ogni anno spuntano così dal cilindro e fanno la vittoria della vita. Ecco, quindi è una squadra modestissima, insomma, che fino a due o tre anni fa neanche conoscevamo, non per questo bisognava sottovalutarla, però troppe occasioni nel primo tempo sbagliate, insomma non mi nascondo che mi sono ingazzato parecchio dopo il primo tempo perché Lautaro è da almeno tre quattro partite che è completamente inesistente, non va bene, ora abbiamo il derby, quindi cercassino un attimino di muoversi Lautaro perché così non va assolutamente bene. Non vorrei che, insomma, finisse un po' come l'anno scorso, anche se poi ha chiuso con, se non erro, 15-16 gol, però ricordo che per un mesetto e mezzo abbondante Lautaro non c'è completamente stato. Ha questi cali, Lautaro lo conosciamo, gli allenatori, lo staff, insomma, deve essere bravi, cercare di non fargli ripetere questi errori che commette con irregolarità. Purtroppo siamo pieni, pieni zeppi di mezzi giocatori, purtroppo, dai vari Correa, dai vari Gianoglu, dai vari Vital che ci sono e non ci sono, possiamo fare poco affidamento. Dobbiamo cercare di avere un attimino di continuità in più, cercare di prendere questi giocatori, dargli due begli schiaffoni e cercare di non fargli ripetere più questi errori. Ecco, a me non piace che un Correa faccia doppietta e poi comunque per 8-9-10 partite scompare dal campo. Ecco, diciamo che questo Correa con un'altra doppietta si è confermato, un grande giocatore sicuramente, però deve trovare continuità di rendimento. Stessa cosa c'è la Nooglu che ancora non si è sbloccato da questo percorso, insomma, negativo che davanti all'Inter, insomma, ha fatto poco e nulla. Vidal aveva iniziato bene, poi è andato di nuovo in una fase calante, poi problemi extracalcistici, fisici, eccetera, eccetera. Oggi si riconferma con una nuova partita, insomma, di grandissimo livello. Vidal lo conosciamo, è un grandissimo giocatore. Migliore in campo stasera, tornando alla partita, assolutamente Brozovic, ragazzi, imprescindibile. L'ho sempre detto, Brozovic è un giocatore su cui l'Inter non può fare a meno. E Brozovic, cerchiamo di sbrigarci, insomma, rinnoviamo questo contratto, rinnoviamo Barella-Lautaro, ancora ufficialità poche, però sembra, si dice, comunque siano addirittura d'arrivo. Speriamo bene. Che dire, Barella ha tutto campo, l'unico problema di Barella è che da tutto il primo tempo prende tantissimi colpi e poi comunque rimane a secco per l'ultima mezz'ora di partita quasi sempre. Quindi poi diventerà poco lucido davanti alla porta, quindi fino a quando, secondo me, non gli affiancheranno un altro giocatore che fa lavoro sporco come lui, sarà difficile che Barella possa anche migliorarsi sotto l'aspetto, diciamo, dei gol. Qualcuno lo paragona Pellegrini, ma fanno comunque due tipi di lavori diversi, Barella e Pellegrini. In Pellegrini si può dire che è un attaccante aggiunto, Barella invece sta tutto campo. Tu a Pellegrini non lo vedi a tutto campo, non lo vedi in difesa o a destra e sinistra del campo o a dare l'anima, ecco, nel senso che, per carità, anche se un giocatore lo farà anche, però Barella lo fa per 60 minuti di fila e quindi è normale che poi Pellegrini, essendo che non va quel tipo di gioco, davanti la porta. Ovviamente è più lucido, ha più finalizzazione. Ma il ragazzo ancora è giovane e si può fare, si può fare, può migliorare tantissimo sotto questo aspetto. Grandissima partita di Skriner, grandissima partita di Bastoni finalmente, ci voleva assolutamente, Bastoni ha iniziato, si sta impianato maluccio, adesso si sta ripetendo piano piano. Andanovic, che dire, incolpevole, sull'ultimo colletto che era abbastanza evitabilissimo, ci siamo forse un po' rilassati troppo. Dunfris, è sempre il solito Dunfris, insomma, lo stiamo vivendo in queste ultime 3-4 partite, insomma, si sta rivelando quello che è. L'ho sempre detto che secondo me Dunfris non è un grande giocatore, anche perché si vede già da subito, ragazzi, si vede già da subito. Io da, anche se sono ancora giovane, qualche partita l'ho vista e quindi io riesco a capire subito quando un giocatore è un grande giocatore oppure quando è un mezzogiocatore. Dunfris purtroppo non è un grande campione, io credo che il prossimo anno lo manderemo da qualche parte. Tra l'altro oggi è stato sovrastato quasi tutta la partita da quando è iniziato, da quando è entrato, insomma, da qualsiasi giocatore. Anche i giocatori che gli arrivavano praticamente all'ombelico, gli è stata sradicata la palla con una fragilità incredibile. E meno male che si diceva che comunque Dunfris fosse molto più fisico, che poi, per carità, Dunfris è un grandissimo fisico. Cioè, credo che sia più di un metro 88, un metro e 90, avrà anche i suoi chili. Però, insomma, imbarazzante, ecco, imbarazzante, anche a livello di corsa, di accelerazione, proprio. Viene rimontato da chiunque e poi ha i piedi montati al contrario, ragazzi. Quindi fate un po' voi i conti. Qualcuno addirittura dice, qualcuno di famoso su YouTube, dice che anche Kimi, insomma, l'anno scorso ha avuto qualche difficoltà e che Conte all'inizio li preferiva darmi anni, ma io credo che lui abbia visto altre partite. Avrà fatto le prime tre, quattro partite da subentrato, ma per questione di adattamento, come è normale che sia. Ma quando entrava, anche nelle prime giornate di campionato, insomma, anche quando entrava, dava il secondo tributo e spaccava le partite in due, ragazzi. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ce lo siamo dimenticati, forse, come giocava Kimi? Vuol dire che ce lo siamo dimenticati. Poi una volta, insomma, una volta poi entrato non è assolutamente più uscito. Quindi pochi cazzi, se ancora oggi, a novembre, Inzaghi preferisce darmi anni, ci sarà un motivo. Secondo me si sarà reso anche lui conto che ancora non è adatto per il nostro campionato e per questa squadra. faceva il fenomeno in Olanda. Comunque, ripeto, Sanchez è entrato col piglio giusto. Infatti quando è entrato ho detto cazzo per i 7 milioni. Fallo un cazzo di gol e è la prima occasione dell'ha messo dentro bene. Invece Correa non ha avuto modo di potersi, diciamo, esibire, diciamo, perché ha avuto poche occasioni. Le avrei potuti fare entrare anche prima perché Lautaro non ne aveva completamente. Speriamo che si ripigli per il derby che ci possa dare questa gioia, insomma, di un golletto. Tutto il centrocampo bene, insomma, ripeto, migliori in campo Brozovic, peggiori in campo assieme a Dumfries. Lautaro, mi dispiace. Mi dispiace, mi dispiace. Bene, adesso comunque la classifica si sta mettendo bene. Come ho detto in parecchi video fa, non dico che è la priorità, però quasi. Dobbiamo andare assolutamente agli ottavi, ragazzi. Quindi ce la dobbiamo giocare adesso con lo Shakhtar e poi con la Real Madrid, assolutamente. Almeno vincere con lo Shakhtar e provare a fare un punticino con la Real Madrid. E vedere comunque di passare dopo dieci anni finalmente arrivare agli ottavi, che è fondamentale, ragazzi. È fondamentale. La Champions League è fondamentale. Non quanto il campionato, ma è fondamentale perché comunque è da parecchio tempo che l'Inter non è più nel giro dei top club europei da dieci anni. Ed è vergognoso, insomma, se vogliamo parlare di brand, di prestigio, di quant'altro. Visto che Zang ha suffragassato i coglioni con queste belle parole del marketing, del brand a livello mondiale. Sì, però se poi non vai agli ottavi dagli dieci anni, insomma. Sti cazzi. Se vogliamo aumentare il brand, dobbiamo vincere le coppe, ragazzi. Vincere gli scudetti e vincere i più trofei possibili. E cercare di essere sempre lì, dalle prime dieci, otto d'Europa. Sempre fisso ogni anno. Così il brand aumenta, capisci? Capisci Zang che dobbiamo andare agli ottavi, capisci Zang? Mannaggia a te, mannaggia a te, che c'è mandellato la squadra, mannaggia a te. Va bene ragazzi, condivisione il video, iscrivetevi. Scusate per l'assenza di questo mesetto praticamente, però non ho potuto fare video, insomma, eccetera, eccetera. Quindi vediamo di riprendere adesso. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi. Se avete qualcosa da chiedermi, commentiamo anche. Ciao ragazzi, ciao.